No, andiamo ragazzi, 3-4 minuti di inizio, Alessina, Torello, con la palla, ma cosa? Stiamo in movimento, stiamo, 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 stiamo. 6, 7, 8, 9, 8, 10, lo sapete, lo sapete, 3-5, 4-5, 4-5, 4-5, 3-5, 4-5, 6-6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 22, 15, 20, 20, 21, 22. 1-2-2, un mano.